Voi riuscite a immaginare uno spettacolo che sia più affascinante dell'aurora boreale? Io non ci riesco e se penso alla scienza che ci sta dietro, la cosa diventa ancora più affascinante. Il Sole emette di continuo particelle cariche attraverso i cosiddetti venti solari e nel momento in cui questi si scontrano con il campo magnetico terrestre, lo deformano e lo schiacciano. Venti solari più intensi del solito possono poi penetrare attraverso il campo magnetico terrestre, entrando a contatto con l'atmosfera. Quando le particelle solari si scontrano con quelle atmosferiche, possono trasferirgli un po' di energia e nel momento in cui queste particelle atmosferiche perdono questa energia, ritornano al loro stato normale, lo fanno sotto forma di luce. È proprio quella la luce dell'aurora polare, che può avere diversi colori a seconda della composizione chimica dell'atmosfera, della quantità di energia che sarà trasferita e dell'altitudine a cui viene il contatto.